Inizio con una storia. Siete al cinema, un po' come anche qua, seduti, immaginatevi la sala pienissima, siete seduti in mezzo alla fila, a un certo punto entra una maschera e vi dice vi dovete spostare di un posto, però tutti i presenti sono obbligati ad avere alla propria sinistra e alla propria destra la stessa persona, quindi cosa succede? Vi alzate, si devono alzare tutti e scalare di un posto. C'è un gran trambusto, si perde un po' di tempo, non è molto bello. Se avete sentito un po' di fastidio a pensare di questa maschera che vi ha un po' fatto fare questo lavoro inutile, tenetevi questa sensazione che ci tornerà utile dopo. Come diceva Matteo oggi voglio parlare di animazioni a 60 fps, quindi come poterle fare più fluide possibili. Vorrei un po' raccontarvi quello che per me è stato il percorso per riuscire veramente a capire cosa c'è dietro e capire questa frase che ho voluto riportare. Può essere semplice ma c'è molto dietro, la leggo un attimo. Molte proprietà CSS obbligano il browser a svolgere costose operazioni di calcolo ogni volta che il loro valore cambia. Perciò eseguire una transizione di queste proprietà lungo il tempo, quindi cambiare il loro valore, fa sì che tutte queste operazioni di calcolo costose vengano svolte tante volte al secondo. E l'animazione risulterà legnosa. Quindi questa presentazione vuole essere un po' il mio percorso anche proprio per arrivare a capire veramente cosa significa tutto questo. Prima di cominciare volevo, visto che non conosco nessuno in realtà, volevo giusto avere un attimo un'idea di, anche solo per alzata di mano, chi di voi fa animazioni in CSS? Ok? Problemi con le performance? Non è mai successo? Spero che per alcuni di voi possa essere quindi un po' utile. Dunque qui ho parlato di operazioni al secondo, come queste operazioni possono rendere lenta un'animazione. Però non è subito ovvio il collegamento, perché fare dei calcoli al browser vuol dire cattive performance nell'animazione. Pensiamoci un attimo di cosa è fatta veramente un'animazione. Abbiamo una serie di frame che si seguono in una sequenza regolare e che deve essere regolare e costante. E viene dato un po' l'illusione del movimento, tramite il fatto che ognuno di questi frame che si alterano in rapida successione rappresenta lo stato, uno stato leggermente diverso del moto che si sta descrivendo. Quindi quando è che un'animazione di questo tipo, il fatto di avere tutti questi frame che si seguono dopo l'altro, quando è che comincia a essere legnoso, a essere lento? Dunque la lag, il cosiddetto lag, il ritardo in un'animazione, è la manifestazione visiva di quando il renderer salta un frame. Il renderer, diciamo, è quella parte del browser che si occupa di mostrare a schermo i pixel che servono per questa animazione. Quindi quando il renderer salta un frame, come può il renderer saltare un frame? Dunque, il problema sta nel fatto che un frame viene percepito come, viene saltato, quando il frame, significa che il frame precedente è rimasto troppo a lungo nello schermo. Quindi mi spiego un attimo meglio. Nello schermo abbiamo il frame e il browser sta intanto con questa mano, sta preparando il frame successivo. Se il frame successivo non è pronto, questo deve rimanere qua, a schermo. E quindi chi vede l'animazione nota un ritardo. Quindi la causa principale, possiamo dire questa, cioè un frame rimane a schermo troppo a lungo se il frame seguente non è pronto. Però anche questo a me non bastava. Secondo me è importante capire perché il frame seguente non è pronto, per quali possono essere i problemi. Vorrei un attimo guardare cosa può impegnare il browser, quali possono essere le cause di un frame che è lungo da preparare e quindi non è pronto. Questa immagine rappresenta il processo che deve attraversare il browser per preparare un frame. Sono cinque fasi, queste cinque fasi per ogni frame ci devono essere tutte e cinque. Alcune sono costose e ognuna di queste cinque fasi può avere dei ritardi. Ed è per questo che il frame facilmente, se c'è una soltanto di queste è troppo lunga facilmente, il frame può essere lungo e l'altro deve rimanere qua troppo a lungo. Le vorrei vedere una per una. Dunque la fase di JavaScript è la prima fase di un frame, quella in cui viene eseguito il codice del vostro programma JavaScript. Come sappiamo c'è un thread solo che si occupa di queste cose, quindi se il main thread è impegnato a eseguire il vostro programma facilmente si salterà il frame perché non può fare altro il thread. Le due fasi che seguono sono quella di style e layout. Durante la prima fase il browser deve calcolare tutti gli stili, quindi se ad esempio nella fase precedente nel JavaScript abbiamo aggiunto una classe, CSS ad un elemento, il browser dovrà calcolare di nuovo tutti gli stili. Se sono aggiunte tante è un grande lavoro. Nella fase di layout il browser deve calcolare la forma, la dimensione e la posizione di tutti gli elementi. Quindi anche qua può essere costosa, soprattutto se ci sono tanti elementi nella pagina, il browser potrebbe avere dei problemi diciamo. In realtà i browser questa parte cercano di ottimizzarla cercando di ricalcolare la posizione soltanto della porzione di pagina che è stata un po' modificata o impattata dalle modifiche che abbiamo fatto prima. Però non è sempre così semplice per il browser capire quale porzione, quale no. Ci sono degli standard anche che ci aiuteranno a farlo, a dire al browser di quale occuparsi, però non è sempre semplice. Le ultime due fasi sono quelle in cui possiamo forse intervenire un po' di più noi, c'è il paint e il composite. La fase di painting è quel processo proprio vero e proprio per costruire quei pixel che verranno poi mandati a schermo. E anche questa può essere molto lenta, anche qui il browser cerca di essere furbo, quindi di usare una ottimizzazione incrementale, quindi soltanto di andare a ridipingere soltanto quelle parti che hanno necessità di essere modificate, le altre le lascia così, sono state toccate. E l'ultima fase è quella di composite. Il compositing dunque, siccome il painting può avvenire su più livelli, quindi una cosa può essere, un po' come i livelli di Photoshop, in cui immagino vi abbiate un minimo di familiarità, possono esserci una cosa sopra l'altra. Prima però di mandare le immagini a schermo, il browser deve schiacciare questi livelli in un'immagine sola, in modo che possa essere mandata poi a schermo. Deve farlo nell'ordine giusto, quindi quello che è davanti deve rimanere davanti quando poi sono stati schiacciati in un'unica immagine. Io direi che qua possiamo riprendere quella sensazione con cui avevamo cominciato il cinema. Il parallelo qua, non so se spero che sarà chiaro, le persone sono gli elementi nella pagina e la maschera siamo noi, siamo noi i programmatori, che diciamo al browser, agli elementi del browser muovetevi tutti quanti assieme, non diamo la possibilità di fare altro. Perché se ci pensiamo la soluzione è semplice, la persona potrebbe alzarsi dalla sedia e passare davanti alla fila, giusto? Non bisognerebbe far spostare tutti quanti. E questo è esattamente ciò che ci serve fare nel browser, noi ci serve la possibilità di avere due livelli, come abbiamo detto prima, diversi. La persona che si è alzata, diciamo, rappresenta il livello più avanti e se noi avessimo questa possibilità, se l'elemento che si deve muovere fosse in un suo livello, potremmo muovere solo il livello, senza dover spostare tutto il resto. Per capire un po' meglio ho rubato, vergognosamente, questa immagine dell'articolo che però ho segnalato sotto, che è molto interessante. A e B sono due livelli e si vede come B rimane, diciamo, fermo, non c'è bisogno di toccarlo, mentre A lo si può muovere. Quindi l'unico lavoro da fare è quello di muovere A e poi rischiacciare, rifare il compositing, ricreare l'immagine nuova, in cui i livelli sono stati schiacciati in un'immagine sola. La fase di compositing è quella che noi, diciamo, dobbiamo cercare di ripetere il più possibile. Questo perché ci manca un ultimo tassello, diciamo, per capire come fare a fare tutte queste ottimizzazioni. Dobbiamo trovare delle proprietà CSS, o meglio, dobbiamo cercare di utilizzare quelle proprietà CSS che richiedono soltanto la fase di compositing. Quindi vorrei tornare un attimo a questa slide. Non tutte le proprietà CSS sono uguali. Alcune, quando cambiamo il loro valore, pensiamo al margine, alcune costringono il browser a rifare il layout. Questa, essendo una pipeline, se il browser deve rifare il layout, deve anche rifare il paint e il compositing. Tutte e tre. Alcune proprietà costringono solo a fare il paint. Non sono sicuro, ma penso un cambio di colore. Se si cambia il colore bisogna rifare il paint e quindi anche il compositing. Alcune proprietà ci permettono di fare solo il compositing. Che è molto economica come fase, soprattutto perché la possiamo far fare alla GPU. La GPU è la parte computazionale che sta, diciamo, nella scheda video. Ed è molto efficiente perché è stata loro progettata per questo tipo di lavori. Per lavorare con i pixel, fare lavori in parallelo. Si hanno due vittorie, non solo la GPU è più efficiente della CPU, ma soprattutto la GPU e la CPU possono lavorare in parallelo. Quindi abbiamo un guadagno in questi termini. Va bene. Sappiamo tutto questo. Come facciamo a metterlo in pratica ad avere delle animazioni più veloci? Esposta lunga. Andiamo su questo sito, css-triggers.com. Questo sito contiene per ogni proprietà css, vi dice quali di quelle fasi del frame devono essere rieseguite dal browser. Questo ci serve come riferimento per dire, se siamo in dubbio, quale conseguenza avrà animare questa data proprietà. Posso animare la larghezza di un elemento? Posso animare il colore? In realtà c'è una risposta breve. Lo dico io. Se noi utilizziamo queste due proprietà, transform e opacity, sono quelle due che tendenzialmente in tutti i browser chiedono soltanto il compositing. Sono solo due proprietà, un po' deludente. Però in realtà si può fare molto. Transform e opacity sono due proprietà che ci permettono di costruire, progettare quasi tutte le animazioni che vogliamo fare, se ci pensiamo. Perché transform ci permette di spostare un elemento, ci permette di ingrandirlo, rimpicciolirlo, ci permette di ruotarlo su tutti gli assi. E opacity ci permette di giocare con la trasparenza. Quindi in realtà ci sono tante cose che si possono fare. A volte può essere complicato, soprattutto se cerchiamo di ingrandire un elemento che dentro ha del testo, allora anche il testo viene ingrandito, quindi può essere un po' complicato. Però se ci teniamo ad avere delle animazioni performanti, dobbiamo tenerci su queste qua. Prima che corriate però a rifare tutte le vostre animazioni, cercando di avere ogni elemento che si sposta sul proprio livello, fare tutto questo, volevo darvi due avvertenze, diciamo. Dunque, la prima è che non sempre il browser è in grado di capire quando il vostro elemento deve stare su un suo livello. Quindi questo quando capita, ad esempio, se voi mettete una transform, un opacity in javascript, il browser guardando soltanto l'html, l'css, non è stato in grado di capire che questo elemento avrebbe avuto bisogno di un livello. Per fortuna abbiamo in soccorso uno standard nuovo, prima si faceva magari con degli hack diversi, questa proprietà will change, si può specificare transform, opacity o altre cose. Andiamo a dire al browser, caro browser, questo elemento subirà una transizione su questa proprietà. Il browser quindi può agire di conseguenza, può fare il lavoro che deve fare, può ottimizzare, può metterlo nel suo livello. C'è però un problema, ogni livello ha un costo, quindi prima di mettere ogni elemento a un proprio livello e sperare che tutto vada per il meglio, bisogna considerare questo. Soprattutto in termini di memoria, il browser ha da fare parecchio lavoro, deve caricare tante cose in memoria per costruire un livello. Quindi se tutti gli elementi in pagina hanno il proprio livello, cominciamo ad avere un problema, soprattutto a punto di memoria. Per questo consiglio l'articolo da cui avevo rubato quella gif animata, perché lì è spiegato molto bene. Questa presentazione è stata piuttosto breve, ma spero che vi abbia dato quantomeno la curiosità e lo stimolo per approfondire un po' di più tutto ciò che c'è dietro. Anche perché io ho cercato di essere breve e non dilungarmi in cose di cui magari non sono neanche un esperto, però si apre tutto un mondo per stare dietro a questo. Quindi io ci tenevo a lasciarvi un paio di cose da leggervi, da approfondire nel caso foste interessati. In realtà non c'è bisogno che le copiate, le stampate e ve le distribuisco così nessun problema. Vi ringrazio per l'attenzione, se vogliamo fare un giro di domande poi... Ok, per misurare un po' la performance in animazione, per capire se questa animazione, al di là della percezione visiva, va bene. Allora io direi che la misura più utile in questi casi è guardare i frame al secondo, gli fps. Dobbiamo cercare di stare sui 60, si possono accettare anche i 30, c'è un dibattito anche a riguardo. Quindi bisogna misurare i frame al secondo. Per farlo io utilizzo gli strumenti degli sviluppatori di Chrome. C'è il pannello timeline, non so, magari posso provare a farlo vedere. Sulla timeline tu hai la possibilità di registrare queste cose qua. Adesso si chiama performance, giusto? Non ho cambiato il nome. Tu puoi avviare una registrazione da qua, poi una volta avviata puoi far partire l'animazione o anche solo provare a fare lo scroll, eccetera. Adesso vediamo un po'. Quando interrompi ti verranno date tra le varie informazioni anche i frame al secondo che sono queste barrette verdi. Ci sono, se non mi sbaglio, queste barrette verdi qua ti indicano il frame. Quindi più alto è, più dovrebbe essere buona. Quando trovi delle indicazioni rosse lì, in realtà quella lì non sono sicuro se è quella giusta, però le trovi anche qua, che adesso ti spiego cosa sono. Le barrette rosse indicano che probabilmente lì c'è stato un frame troppo lungo, quindi il browser pensa che lì c'è stato un problema. Queste barrette verdi qua indicano i frame nuovamente, però te le mette in relazione al codice che è stato eseguito. Adesso non so se hai familiarità con questo strumento, però quindi quello direi che è uno strumento importante. Un'altra cosa che si può fare, che personalmente io lo trovo più efficace anche se, se vogliamo, è meno preciso. Se vai sul pannello rendering puoi abilitare print flashing. Questa cosa qua, allora, vediamo se riesco a farlo vedere. Dovrebbe, purtroppo in questo sito, ok, ti vede più o meno qua. Ti fa vedere in verde le cose che hanno dovuto riavere il painting, hanno dovuto subire un painting nuovamente. Questa, diciamo, questo painting è il tuo nemico, devi evitarlo il più possibile. Se durante un'animazione tu vedi tutto verde, quindi, non so, fai entrare un menu da sinistra e il menu è verde mentre si muove, vuol dire che il browser ad ogni frame lo deve dipingere, lo deve fare di nuovo il painting. Si evita facilmente se fai quella cosa di cui ho parlato, cerchi di promuoverlo a livello. Quindi quando c'è il livello abbiamo visto non devi rifare il painting, devi solo rifare il compositing, giusto? Quindi non lo vedrai verde. Io utilizzo, è un po' una scorciatoia in realtà, perché non ti dà una informazione su è fluido o non è fluido. Ti dice, guarda che stai rifacendo il painting ogni volta che fai un'animazione. Quindi probabilmente, magari sul computer la vedi bene, ma se su un telefono può essere olegnoso. Non so se qualcuno ha qualche metodo migliore per rispondere alla domanda. C'è un'altra domanda. La dichiarazione, quella che prima hai chiamato dichiarazione intente al browser, will change. Esattamente, che cos'è? Ci puoi parlare un po' di... Sì, allora, will change è uno standard CSS, una proprietà relativamente nuova, che dice al browser, l'elemento a cui hai dato questa proprietà, subirà un cambiamento nel valore della proprietà che indica. Quindi si dice, will change, transform, se dicendo al browser, guarda che transform avrà un cambiamento. E questo è il suggerimento di cui ha bisogno il browser per capire se deve promuovere a livello questo elemento. E tu gli dici, guarda che ci sarà un cambiamento nell'opacity. Il browser dice, ok, ora mi faccio furbo, lo metto nel suo livello. E questo è un po' l'utilizzo. Sì, esatto, esatto. Una cosa che puoi fare, se hai tanti elementi che si muovono, come dicevo prima, mettere, avere tanti livelli può essere costoso. Quindi se hai tanti elementi che si muovono, invece di mettere tutti quanti will change, lato javascript, prima dell'animazione gli metti will change. Quindi il browser ha modo di capire che questo lo mette su un livello. E poi fai l'animazione. In questo caso però ci sono altri problemi, perché se tu metti will change all'elemento, in realtà il browser deve aspettare il prossimo frame per rendersi conto, perché se ti ricordi deve ancora esserci poi il calcolo degli stili. Quindi in questo caso dovresti fare una request animation frame, dovresti chiedere al browser di aspettare il frame successivo. Io vorrei dire qualcosa sui frame per secondi. Appunto, l'occhio umano mi sembra che era il 24-36, quindi perché arrivare ai 60, non limitarsi, non so, magari non limitarsi. Sì, Matteo ha forti opinioni al riguardo, se non ricordo male. Il 24 era un compromesso scelto tra il consumo in metri di pellicola e il fatto che le persone si accoggeessero che questa cosa sfarfallava. hanno trovato quel punto lì, hanno detto 24 va bene, di più sprechiamo pellicola, di meno se ne accorgono. E quindi è proprio una valutazione diciamo molto opportunistica. E la soglia, diciamo così, sotto il quale l'occhio se ne accorge. Tant'è che in realtà noi ce ne accorgiamo, ma siamo abituati e quindi compensiamo mentalmente questo fenomeno. 60 fotogrammi al secondo in realtà è effettivamente la soglia cognitiva e fisiologica, per cui l'occhio tendenzialmente oltre i 60 fotogrammi al secondo invece non ha un beneficio dal punto di vista dell'animazione. Dal punto di vista invece perché ci vendono i televisori a 100, 120, come refresh rate, quello è un discorso leggermente diverso, nel senso che anche se l'immagine è ferma, tipicamente sul monitor sfarfalla, perché viene comunque redisegnata. Questo sfarfallio l'occhio lo percepisce, non c'è movimento, è tutto fermo, però lo percepisce. Più è alto, meno lo percepisce. Quindi diciamo così, è come se tu pensassi ad una componente di rumore su un suono. Il suono è sempre lo stesso, però più riesce a ridurre la componente di rumore, più questo suono è pulito, cristallino. Anche se il suono è sempre lo stesso. Quindi il refresh rate è per evitare che l'occhio percepisca un elemento di fastidio, anche a immagine ferma, statica, una fotografia. Mentre i fotogrammi al secondo, 60 è la soglia fisiologica oltre la quale non c'è un effettivo beneficio, diciamo così. Poi i gamer ti dicono io voglio andare a 120, vabbè, che ha un senso solo ed esclusivamente quando ci sono due immagini diverse. E quindi per mantenere 60 fotogrammi al secondo, ma 60 per un occhio e 60 per un altro occhio, quindi se hai in visione stereoscopica, allora devi generarle a 120. Quindi tanti gamer dicono, devo avere una GPU che è in grado di sopportare una pipeline a 120 fotogrammi al secondo, perché o con l'Oculus o con qualsiasi altro sistema di 3D devo generarne 60 per ogni occhio. E quindi a quel punto in un secondo devono essere prodotti 120 fotogrammi al secondo. Quindi questi sono un po' i numeri che ballano, 24 che sotto me ne accorgo. E in realtà abituati al cinema, io dico sempre è il cinema che ci fa dimenticare che sono solo 24, nel senso che ci innamoriamo della storia a guardarla e finisce lì. Nel senso noi abbiamo questo concetto, ci siamo al cinema e cinema, finito. Sopra, arriviamo fino a 60, oltre a 60 non percepiamo più la differenza, 120 se devono essere uno per occhio e il refresh rate invece anche ad immagine statica, però quello l'occhio lo percepisce come un rumore, quindi come un elemento di fastidio. Se a parte le librerie raccolte, diciamo diffusi, a livello di animazione di Giacos, se hai altre librerie che provate in questi anni, ti è capitato a parte che non so, credo sia a tutto il mondo. Ma guarda, io ho usato un po' quella e per il resto poco altro. Una cosa che mi sento di considerare di provare più che altro, l'ho messa anche nel foglio, c'è questa strategia, non so se l'ha inventata o l'ha diffusa comunque Paul Lewis che lavorava nel team di Chrome, che si chiama Flip, quindi lui suggerisce di quando si fa un'animazione, soprattutto se non si sa il punto di arrivo di questa animazione, quindi voglio spostare un elemento da qui a là, ma non so dove sarà là nell'applicazione, perché può essere modificata dalla granezza dello schermo o da varie cose. Lo faccio lato JavaScript e quindi utilizza questa strategia che si chiama Flip, quindi First, Last, Inverse and Play. Quindi prima guarda il punto di partenza, il First, poi guarda l'ultimo, il Last, poi fa l'inverso, quindi sostanzialmente mette già gli stili per l'ultimo livello e poi calcola la trasformazione per riportarla al punto di partenza, lì ho tolto JavaScript, e poi fa Play, quindi lascia che il browser da solo ritorni là. È una cosa un po' macchinosa, lui ha creato una libreria Flip.js, diciamo che è carina e trovo che sia interessante perché sfrutta un po' anche come funziona la percezione nostra, ovvero quando ad esempio interagiamo con un elemento per provocare l'animazione, magari clicchiamo su un tasto, lì abbiamo un 100 millisecondi, in quei 100 millisecondi possiamo fare del lavoro, però entro i 100 millisecondi dobbiamo reagire a questo, quindi l'animazione deve partire. Lui sfrutta questi 100 millisecondi per fare questo calcolo, quindi il primo, l'ultimo, per portarlo indietro, per poi avere l'animazione invece a 60 fotogrammi al secondo, quindi ogni fotogramma deve essere pronto in teoria in 16 mille secondi, in pratica il browser ha qualcosa da fare oltre alla nostra animazione, quindi sono più verso i 9, 10. abbiamo 10 millisecondi per frame, quindi lui fa un po' di lavoro prima in quei 100 millisecondi che abbiamo, e poi quello è interessante, però altre librerie non tra le sue dire. Sì, sì, è anche, diciamo, è una libreria che fa soltanto questa cosa qua, quindi in realtà gli devi dare il punto di partenza, il punto di fine, quindi anche come API è semplice. Altre cose non so, c'è sicuramente la web animation CPI, che sarà un po' lo standard futuro, so che la implementazione nei browser è ancora un po' lenta, so che ci sono dei polifilm che non coprono tutto, non l'ho mai testata, non l'ho mai testata però, quindi non ti sto a dire. Allora, i 50 millisecondi sapevo che, è il tempo di reazione, cioè la pagina non può essere in uno stato di idle per più di 50 millisecondi, non so se è quello a cui ti riferisci, ovvero siccome ci aspettiamo, come dicevo prima, che un'applicazione, un qualcosa, reagisca in 100 millisecondi, noi dovremmo cercare di dividere il lavoro che facciamo mentre l'utente sta pensando, in tranche di 50 millisecondi, così che appena l'utente cerca di interagire, noi siamo pronti per interrompere quello che stiamo facendo, reagire, non so se è quello, però cosa mi chiedete? Ok, sì. Sì, quello fa parte del modello rail, è stato studiato, diciamo, appunto, come dicevo prima, i tempi di reazione che ci aspettiamo, ci aspettiamo in modo che non venga percepito come un ritardo eccessivo, ci aspettiamo che il caricamento venga in un secondo, la risposta al, come dire, al tatto, eccetera, sono 100 millisecondi, abbiamo il tempo di idle, che è il tempo in cui un'applicazione potrebbe cercare di fare qualcosa, appunto, mentre l'utente è nulla facente, è in idle, che sono 50 millisecondi, e l'animazione invece, che deve avere ogni frame composto da 16 millisecondi. Rail, sarebbe response, animation, idle and loading, sono questo framework che hanno un po' studiato, un po' come riferimento, poi ogni caso è a sé, cioè non dobbiamo per forza stare in queste quattro numeri, altrimenti tanto vale che non lo facciamo. Caso per caso, ovviamente, questo è un po' un punto di riferimento. Grazie. Grazie. Questo è il parido, io pensavo non ce l'avevo dato il frame, ma io non l'ho letto l'antico, e invece, quando parliamo di device low profile, che hanno un gioco delle persone, che hanno un'ultima cono, delle nobili realtà che abbiamo noi, perché c'è una cosa lunghissima di device, molto molto scassi, quindi c'è più quattro volte più lente del computer, e lì cosa sarebbe meglio fare, magari passare alle nizze di CSS, questo che è evitare già la scritta, perché comunque ci si mette. Ma io leggevo da, non so se uno dei creatori, o chi contribuisce a GreenSock, alla libreria che hai menzionato tu prima, che in realtà loro non hanno visto tutta questa differenza, tra un'animazione fatta lato JavaScript, e un'animazione fatta lato CSS. Io non ho mai fatto test. Sì, hanno fatto dei benchmark, io non ho mai testato, quindi mi fido un po' di quello che dicono. Su telefoni poco potenti, in realtà la cosa che un po' ci rovina, rispetto alle applicazioni native, è che il sistema operativo non ottimizza, per una reazione dell'utente sul browser, quindi diciamo che i core del processore, di un telefono, vengono spenti il più possibile, quando siamo lì che stiamo leggendo una pagina, quindi quando c'è un'interazione, c'è un attimo in cui il sistema operativo deve far ripartire i processori, perché deve risparmiare batteria ovviamente. Quindi nei telefoni meno potenti, con poca batteria, questa ottimizzazione è all'estremo, e quindi in realtà, quando vuoi fare un'animazione, che come in molti casi, è in risposta ad un evento dell'utente, in realtà c'è poco da fare, devi cercare di avere poche animazioni, animazioni, pochi livelli, quel livello deve essere appunto separato, e cercare di fare il possibile. Sì, forse è proprio il perché fare le animazioni, che è un po' all'inforzo, anche se c'è uno scopo, una animazione, come nel caso del cambio di strato, non sono i micro interazioni, sull'interfaccia dell'utente, piuttosto che conversation, di UI, allora magari ha senso, però se tanto per fare il sito figo, allora è proprio una cosa differente, quindi vai giù proprio di... Sì, l'età, in pratica, Sì, quelli partiti, come One Preach, sono un pezzo con quelli peggiori, no? Perché anche durante lo scroll, c'è la animazione del repaint, giusto? Sì. Se tu fai scroll la pagina, alcuni elementi, vengono i dipinti, per il browser, e invece se tu ruoti, lo schermo del device? Sì, non lo so. Se c'è il repaint, se c'è il repaint, se cambia il viewpoint, in realtà. E lui può cambiare, perché se il sito respons, per esempio, non c'è il repaint? Secondo me c'è un repaint, però non ho avuto dire, anche come... O se qualcuno lo sa. Non lo so. Cioè, sarei quasi per dire che, se potresti probabilmente evitarlo, se sei in una condizione, per cui sei solo in Canvas, a quel punto può darsi che, essendo già tutto spostato sulla GPU, sia solo una trasformazione, più scaling, ma se sei in pagina, in DOM, ho l'impressione che era davanti alla sua regola, e poi magari, come dicevi, un po' l'ottimizzazione, per cui effettivamente, certe cose riesce a saldarla, o in qualche modo, ad ottimizzarla, però l'impressione, però, che effettivamente, abbia un posto, con la rotazione, non c'è la fase di rotazione, quella è simulata dal telefono. Il telefono fa uno snapshot, lo gira, per farvi vedere che stai violando il telefono, e poi, non so, tra l'altro, se parte a rendere già, mentre sta girando, o no, perché dipende da quando chiunisce la mente. Invece, una cosa che, che non c'è, in realtà, in realtà, nulla dobbia, tutto quello che ha detto, Alessandro, sul tema dell'uso delle animazioni, recentemente, quindi, tra le cose che ha citato, Web Animation API, che sono sicuramente da, da vedere, nel senso, sono talmente recenti, bisogna, ovviamente, cominciare a capire, cosa c'è dentro, e, credo che sia, da Chrome 60 in poi, insomma, quindi, effettivamente, non sono ancora, pubblico domino, da un punto di vista, di diffusione. Tra le proprietà CSS, in realtà, c'è una media query, disponibile, nei browser facenti, che, il, Reduce Motion, che sostanzialmente, permette di leggere, la preferenza dell'utente, per, le impostazioni, diciamo così, controllo, delle animazioni del device. Se vengate, nelle impostazioni di accessibilità, potete dire, ricucci di effetti visivi, che significa, che tutta una serie, di interventi, di flash, e di cose del genere, molto ottimo, per ottimizzare, la batteria, o perché magari, voi siete soggetti, che hanno, un studio visivo, o possono direttore, generare, questo biletto, e quindi, ci sono, effettivamente, categorie di tempi, che sono soggetti a queste cose. Se voi impostate questa preferenza, è possibile leggere, dal lato CSS, quindi, ovviamente, dal lato JavaScript, e questo, questo è un modo, utilissimo, per tagliare via, tutta la componente, o di CSS, o di JavaScript, nel caso, in cui, quell'utente lì, in particolare, non la voglia, in termini di performance, per quell'utente in particolare, ed è una scelta sua, non vi è resido niente, assolutamente, quindi, è tutto, chiamiamolo così, più fluido, perché è più semplice, non portandosi dietro, quella don, che ha la sua componente, anche di UX, che per il caso, utente è buona, quindi, quello può essere, una discriminante, molto, molto semplice, con cui, proprio tagliare fuori, o lato JavaScript, o lato Steering, perché, tanto, è una media query, per cui, tutte le transformation, CSS, che potete mettere, sotto questo ulteriore, filtro, e, in questo modo, non solo risponde, alle mie esigenze, degli utenti, ma anche, di fatto, fornire una plataforma, simbriola. Io provo, qua, come un'altra, allora, io, studiamo, sono su del momento, lato back-end, diciamo, però, c'è qualche accorgimento, appunto, lato back-end, per venire incontro, a queste necessità, diciamo, di animazione, si fanno tutte, da fronte del mio, quindi, chi se ne importa, di quello, come sembra, che direi, io direi, che è la sconda, è un'animazione, che viene, attivata dall'utente, dal tuo contenitore, quindi, viene svolta, tutta dall'utente, non c'è niente di successo, l'unica cosa, scusa, che, che si fa, diciamo, quasi, quando c'è, l'easing, cioè, l'animazione, non viene fatta, in un modo lineare, o, ad esempio, parte lenta, per la roccia, e poi, usare, una strategia, come quella, dicevo, di Manfit, quindi, puoi invertirla, lato già, lo scritto, è un po' un casino, calcolare l'isica, al contrario, quindi, dovresti calcolarti, le trasformazioni, lato perché, è, 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 una problemalla, combinerà, dove si può comportare, assercitermi, prima, eserci Setanumali, altre cose. Allora, un'altra, domanda, che mi risorgono, adesso, se io, confronto, la performance, se io, guardando, un video, che sto, guardando su Youtube, in cui ci sono, milioni di pixel, che, che mi arrivano, agli occhi, e poi un'animazione dove un grosso quadrato si sposta e cambia colore quindi con un re-painting, no? Come mai il quadrato simbiofica e il video invece anche fino a 4K sul mio telecom? Va benissimo? Perché il video viene renderizzato prima quindi quando fai un'animazione nel browser il browser proprio nel dispositivo che in mano nel computer deve calcolare l'animazione e farti vedere ogni fotocamma ha preparato? Cioè mi stai guardando se stavo meglio ha fatto questo, ha fatto questo Ok, quindi non c'è un modo cioè perché da quello che ho capito animare per il web significa fare sempre diciamo runtime un'animazione cioè quell'animazione lì non c'è un momento in cui viene compilata e poi diventa più efficiente ma è sempre ricalcolato praticamente ogni volta che si faccia un play si scorda del momento in cui va non sarebbe interessante Ma non so se ci siano dei modi forse ci sono degli esperimenti questo mi spugge il nome che stanno lavorando per poter agire un po' più su diciamo il livello sottostante non so se in quel modo tu possa calcolare tutti questi frame prima e non dov'è calcolare di volta in volta però al punto che in una pagina spesso ci sono tante cose che si muovono quindi il browser comunque è difficile che tu possa come fare un film prima di quello che succederà se ci sono i video se ci sono i video se ci sono i video prende lo delega al decoder video chiede sui qual è in hardware nel senso che è nella cpu soprattutto se è in h264, h265 è in gpu e la cpu è una pipeline diretta su quella posizione di video cioè il browser si occupa di tutto il resto lì c'è un buco nero te ne ho occhi tu io al massimo ti mando i comandi per dirti plan e stop e basta ma quella roba lì non è gestita dal browser è fuori dalla pipeline del browser ci sono invece per quello che allora non è particolarmente diciamo così efficiente pre-rendalizzare una dimensione a me lo faccio molto io ovviamente ci possono essere dei casi invece in cui può avere senso per esempio nei giochi ci sono gli stacchi cioè se tu hai una sequenza e poi hai un pezzo che unisce una sequenza con un'altra sequenza quel pezzo lì può essere fatto sulla base delle condizioni diciamo di gioco quindi non è un video ma è da questa sequenza da questo pezzo di gioco qua passiamo a un'altra scena il raccordo lo ringraziate perchè è mai basato sulle condizioni in cui lo stai giocando tu è notte, è giorno, non c'ho le armate, non c'ho le armate non lo so qualunque cosa possa essere quella cosa lì si può ovviamente fare anche lato braso ovviamente utilizzando però delle tecnologie molto simili a quelle che utilizzerete se sviluppassi quindi in Canvas con OpenGL quindi diciamo la versione di OpenGL che è un linguaggio di descrizione 2D e 3D per per diciamo disegnare o comporre qualcosa compreso texture grafiche come possono essere immagini modelli 3D con appiccicati sotto delle texture e così via tu vuoi di fatto pre-realizzare una sequenza che appunto diciamo sostanzialmente ottimizzarla se è particolarmente onerosa perché parti da appunto magari una componente 3D però parametrizzata su quello che è lo stato dell'utente in quel momento però è un caso veramente molto 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 particolare come si applica dove possono essere condizioni di pagina se tu guardi l'esperimento di Google ci sono diverse cose che sono fatte in questo modo nel senso che e tra l'altro le cose interessanti ti fregano molto nel senso che ci sono dei pezzi fatti così e di tutti gli altri come magari fatti in decente che sono già tradizionali cioè in DOM con transformation e componenti c'è un pipeline tradizionale però quella è l'altra cosa l'ultima cosa che cita Alessandro è WebAssembly cioè possibilità di compilare nel JavaScript per farlo eseguire a passo bello quindi diciamo così parallelo alla pipeline di rendering del browser o comunque diciamo negli interni del browser anche applicazioni dall'appunto cioè o fai appunto applicazioni veramente molto molto intensive e le prime che mi possono migliorare in mente in questo momento sono appunto se fai AR o VR del browser e di nuovo ricadi sulla parte di WebGL però anche tutta la parte di calcolo delle condizioni o gestione per esempio dell'ex per fare dato JavaScript anche la componente sia combinata perché effettivamente si riesce a scendere di un livello grafico d'altro non ci avevo pensato mi stavo pensando a Udini che è sempre una nuova cosa che stanno cercando di raggiungere però purtroppo non mi ricordo solo che ho scritto qualcuno che diceva sarà molto uguale perché permetterà il risultatore di avere qualche parola anche in uso di quello che succede a livello più basso a livello grafico però non mi ricordo in questo momento nel caso di un'animazione è creata con una libreria JavaScript dentro un campus tipo user.js per esempio non viene comunque priorizzato ma è comunque calcolato un'animazione ma chi lo sappia il campus può avere più modi di fare la modalità immediata la modalità quindi non ricordo se fai quella immediata penso che ogni volta però quel punto non è così costoso il campus è molto più vicino a quel tipo di pipeline si si praticamente nel campus puoi lavorare su ogni singolo piece di decidere cosa mettere e cosa non mettere e è più veloce quanto tutti questi problemi perché il problema per come lo capisco io molto meno il problema di fare un'animazione sulla sua pagina è che questi elementi che noi muoviamo sono interattivi hanno un sacco di proprietà e quindi bisogna portarsi di dietro molto spesso un elemento a meno che non ho alcuni livelli come ho spiegato ogni elemento uno sopra l'altro quindi se ne sposti uno e spostare anche tutti quelli sotto comincia a diventare molto pesante invece sul campus è proprio come se stessi disegnando su una porzione che è assegnata a disegno non ci si può fare niente naturalmente o meglio puoi lavorarci anche solo ti dico il clip con il mouse sopra a una cosa che tu disegniamo con il campus non c'è l'evento click on this possible devi andare a vedere in quale pixel hai cliccato cercare di capire su cosa si sovrappone quel click quel pixel e cosa rappresentare però a livello di performance è io so che è molto più veloce ma c'è un meccanese interattivo non posso capire invece di interagire con un elemento no, è più veloce assolutamente è molto più complicato e ha rischi di doverti reinventare come ci sono i browser hanno fatto quindi è il primo consiglio dell'accessibilità esatto nel senso che se tu hai una pagina e devi animare le linee di pagina la pagina è leggibile da amatore eccetera quindi qualificabile l'accessibilità a tutti i tempi quindi posso aumentare la dimensione dei caratteri se non vedo bene cioè tu vuoi fare quello che vuoi magari hai altre responsi su uno schermo per proiettare piuttosto che sul device se in campus devi fare tutto queste libere gestiscono anche la responsive cioè stanno iniziando a cercare di usare dei canvas che erano comunque tutto sta diciamo la finalità con cui per che cosa lo vuoi utilizzare anche flash è un canvas però comunque se ti interessa flipboard mi pare se chiami l'applicazione quella che legge le notizie loro hanno fatto dei componenti animati per cambiare la notizia all'altra hanno fatto tutto in canvas hanno dovuto sviluppare diciamo un livello intermedio tra l'applicazione che lo spiegano per il studio e la parte diciamo di rendere in mezzo hanno messo una cosa che traduce tutte queste cose in un canvas e poi vedrete un articolo in cui c'erano che è stato un incubo però se te lo cerchi sicuramente spiegheranno molto bene cosa hanno trovato di positivo e di negativo io ho avuto un po' gli eventi della pop che poi è successo di flash e non capivo se era una cosa che si poteva sfruttare o no è come se tu entrassi in un nuovo dominio completamente diverso con il canvas con i breviti e poi scendere ogni mix e quindi oltre a tutto te crei un bagno in comando la proprietà di frizzazione poi penso che bisogna prendere in considerazione però le performance di cliccamento che oggi abbiamo parlato prima però prima anche se non c'è la città il sito io non riesco nemmeno ad accederci perché c'è 10-15 secondi a cliccarsi non è in considerazione davvero nemmeno mai quindi soprattutto su device in basso profilo perché alla maggior cosa delle persone almeno in italia facciamo molti dati che comunque avevano milioni di sezioni tra quindi prima di pensare alle emozioni in realtà bisogna pensare alle emozioni di cercare ai temi di cliccare sui siti stessi quindi cosa è una parte che viene da lì? immagino che lavorando con Canvas è tutto caricato il mio nome giusto? sì mentre quando pensi a una pagina come il testo è molto piccolo giorno sferire sulla rete però comunque io purtroppo non sono molto capato da Canvas non posso dire magari invece per esempio sull'organizzazione ci sono particolari le ottimizzazioni che diciamo quello di back-end quello di back-end è solo una piccola parte esatto prima quindi quando il server inizia a spiegare le risorse all'interno c'è che compone un sito dopo quindi si puoi ottimizzarlo però mi sono abbastato già su 200-200 secondi penso che la parte back-end vada già bene per me mi sembra che tu oggi sia un benchmark per cento per cento per cento per cento se sei sotto su 200-200 secondi su qua vedo che io già faccio bene minifichi comprimi e invia il junk sì sì sono tutte forse così semplici però è chiaro quelle sono la possibilità di fare il default però come diciamo così dipende dalla complessità dell'arbitazione del software ok